Cari amiche e cari amici, prima di iniziare con la Bergoglieide, ossia i mille e un modi con cui Francesco demolisce e distrugge definitivamente la Chiesa Cattolica per come la conoscevamo, vi ricordo che esiste il decimo toro interviste. Vi lascio il link in descrizione e nel primo posto in atto. Iscrivetevi e lasciate un contributo al decimo toro per il mio lavoro quotidiano. No. E veniamo subito alla ultima Bergogliata. Stretta di Bergoglio sulle celebrazioni liturgiche nel rito antico. Francesco, dopo aver consultato i Vescovi del mondo, ha deciso di modificare le norme che regolano l'uso del messale romano del 1962, liberalizzato come rito romano extraordinario, 14 anni fa dal predecessore Benedetto XVI. Poche parole, sta parlando della messa in latino, che Benedetto XVI era tornato ad autorizzare. Continuo. Con un nuovo motu proprio, pubblicato oggi e intitolato Traditionis Custodes, sull'uso della liturgia romana anteriore al 1970, Francesco vuole mettere fine ai troppi abusi nelle celebrazioni liturgiche che hanno fatto un uso strumentale del messale romano. Qui vediamo che l'ampantemente è una scelta politica, perché come si fa ad abusare della messa in latino? E vabbè, adesso la Bergogliata è questa, il distruttore fa il suo lavoro. Continuo. D'ora in poi sarà il Vescovo della Diocesi ad autorizzare l'uso del missale Romanum del 1962, dopo aver accertato che i gruppi che celebrano con il messale antico non escludano la validità e la legittimità della riforma liturgica dei dettati del Concilio Vaticano II. E qui vediamo proprio la dittatura interna. Cioè, il Vescovo deve prendere i responsabili, capire i fedeli, dicere, accettate il Concilio Vaticano II? Se no, non dà l'autorizzazione. Continuo. In tutti i casi le messe con il risultato antico non potranno più essere celebrate nelle chiese parrocchiali. Occhio, eh? E solo il Vescovo della Diocesi potrà decidere la chiesa e i giorni delle celebrazioni. Quindi diventa una cosa talmente complessa, complicata, che alla fine verrà neutralizzata, celebrata proprio pochissimo. Continuo. Lo stesso Vescovo Diocesano, prima di concedere l'autorizzazione, consulterà la sede apostolica, mentre diverse istituzioni eserciteranno l'autorità della Santa Sede, vigilando sull'osservanza di queste disposizioni. Io ho riassunto in diverse istituzioni, ma ci sono tutta una serie di istituzioni, per cui lo stesso Vescovo non è che ha l'autonomia di autorizzare la messa in latino. No, deve consultare la sede apostolica, che a sua volta ci sono diverse istituzioni deputate poi a dare questa autorizzazione. È come quando si va per ministeri. No, non è questo l'ufficio d'atto. Insomma, complicano dal punto di vista burocratico, mettono i bastoni dalle ruote, fatto sta che cancellano nei fatti la messa in latino, che sarà qualcosa di raro ed episodico. continuo. Le concessioni e consuetudini precedenti, che risultano non conformi con quanto disposto dal presente motu proprio di Francesco, sono abrogate dal nuovo motu proprio che entra immediatamente in vigore. Quindi già da subito, già c'è questa cosa. Cari amiche e cari amici, mala tempora currunt. La Chiesa Cattolica non tornerà mai più come prima, prenderà nuove modalità e Francesco continua con la sua opera di grande demolizione. Iscrivetevi al Decimo Toro Interviste, canale stupendo, link in descrizione. Nel primo post in alto lasciate un contributo per tutte queste informazioni che quotidianamente vi do. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.